Niamo in rete un progetto inclusivo finanziato dal Ministero delle Politiche Sociali e dalla Regione Abruzzo che punta a creare inclusione attraverso lo sport. Lo faremo attraverso delle attività ludico-motorie, nelle scuole, negli studi comprensivi, in particolare quelli che versano sul Comune di Teramo, inviando i nostri educatori sportivi che sono opportunamente formati allo scopo e poi ci sono tante altre azioni, tra cui quella di formare, creare un corso di formazione per operatori sportivi nella disabilità che sarà molto utile anche alla rete di associazioni sportive che coinvolgeremo attraverso il progetto per includere persone in condizioni di povertà o di disabilità nelle attività ordinarie dello sport cittadino. E questo ovviamente anche attraverso dei voucher che rilasceremo a queste famiglie per permettere loro di sviluppare al meglio queste attività dove normalmente magari i ragazzi non riescono ad essere inclusi. Diciamo che il CSI negli ultimi anni ha superato i record di partecipazione. Abbiamo oltre 20.000 tesserati, la stagione scorsa si è conclusa con questi numeri e più di 170 associazioni sportive. E diciamo che il trend della stagione in corso ci proietta verso ulteriori record, ma ovviamente aspetteremo il traguardo per decretare quale sarà il risultato finale. Sì, sicuramente è un veicolo importante in questo caso anche per includere ragazzi fragili, ma anche che è verso uno stato di povertà. Abbiamo voluto finanziare questo progetto del CSI che rientra nel bando di 1.600.000 euro, un bando in cui abbiamo triplicato i fondi a favore del terzo settore, che è sempre impegnato per cercare di rimuovere ogni forma di barriera psicologica e morale. In questo caso c'è lo sport di mezzo per cercare anche di usufruirne la disciplina sportiva a tutti coloro che ne vogliono beneficiare. E soprattutto andiamo anche a formare degli operatori sportivi per disabili, per cercare di fare in modo che tramite lo sport possiamo includere. Un'iniziativa molto importante che rientra nel più ampio progetto del piano sociale regionale in cui abbiamo triplicato i fondi. Anche questo avviso di 1.600.000 abbiamo triplicato i fondi, quindi questo ci permette di mettere in campo tutte queste progettualità per cercare di abbattere ogni forma di barriera.